Anche la Calabria sarà presente al Cial Parigi 60esima edizione, una vera e propria vetrina per il futuro dell'alimentazione, con circa 2.500 nuovi prodotti presentati ad ogni edizione, che rappresentano circa il 10% dell'innovazione mondiale in materia di prodotti alimentari, 7.500 espositori, rappresentanza di oltre 130 paesi, con una previsione del 75% di visitatori internazionali, che si terrà dal 19 al 23 ottobre, un contesto identitario privilegiato e di notevole impatto per la Regione Calabria. Sarà presente con 28 aziende che hanno fatto bene i compiti a casa e che porteranno in Europa le eccellenze e la qualità dell'agroalimentare calabrese. Questa partecipazione fa parte di un programma fieristico e di promozione che sta dando risultati importanti con una crescita a due cifre dell'export dell'agroalimentare calabrese ormai da 30 mesi.